Il profeta Isaia secoli prima della nascita del Redentore in un grido di gioia annuncia il dono di Dio agli uomini. L'Evangelista Giovanni nel prodolo del Vangelo annuncia la nascita del Verbo vita, luce, verità, amore e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. La Gaudium et Spes così presenta questo grande mistero. Dio si è fatto uomo, è diventato come noi, uno di noi, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. L'incarnazione dei figli di Dio ha impegnato Cristo tutta la storia e la vita di ogni uomo. Egli è il punto focale dei desideri, della storia, della civiltà, il centro del genere umano. Ad ogni cuore è la pienezza delle loro aspirazioni. Con Cristo il desiderio dell'uomo di diventare simili a Dio ha superato ogni speranza. Con Gesù fattosi nostro fratello, l'uomo è entrato di diritto nella famiglia di Dio. Figli dell'unico padre e suoi eredi e commensali. Semprano parole che abbiamo sentito tante volte e quindi sono scolpite anche nella nostra mente, ma se ci pensiamo un istante soltanto. Noi siamo figli di Dio, come Gesù è figlio di Dio. Gesù per natura, noi per adozione. E noi sappiamo che il figlio naturale e il figlio adottato hanno gli stessi diritti e doveri. Quindi noi insieme a Gesù abbiamo gli stessi diritti e doveri. Facciamo parte della famiglia di Dio, per cui, tanto per illustrare meglio il pensiero, se San Pietro quando io vado a bussare alla porta del paradiso e mi dice tu non entri, io dico no, mi dispiace. Io sono figlio adottato da Dio e il paradiso è la mia eredità. E' l'eredità di mio padre e quindi che mi spetta a me. Impariamo allora a conoscere i lineamenti della personalità di Gesù Cristo che meglio lo rivelano all'uomo nel nostro tempo. La sua squisita attenzione alla sofferenza umana, alla povertà, il suo amore per i poveri, la sua capacità di scrutare i cuori, la sua lotta contro la doppiezza farisaica, il suo fascino di capo e di amico, la potenza capovolgitrice del suo messaggio, la sua professione di pace e di servizio, la sua obbedienza alla volontà del padre, il carattere profondamente spirituale della sua religiosità. La nostra generazione ha scoperto il valore della creazione e l'impegno per la salvaguardia delle creature al servizio dell'uomo per testimoniare Cristo e portare ai fratelli il suo messaggio di salvezza. L'episodio di Anna al Tempio di Gerusalemme e del vecchio Simeone stanno a dimostrarci come testimoni centrali, fondamentali, anche perché anziani, essi testimoniano Gesù, figlio di Dio. E di qui comincia un continuo spandersi di questa missione di Gesù sulla terra, missione redentrice. Quale responsabilità per ogni uomo chiamato a essere profeta di Cristo, portatore agli uomini del suo messaggio di libertà, di pace, di perdono, di amore e di salvezza. In questo campo padre Pio si è offerto vittima come un giorno si offrì Cristo Gesù ugualmente per portare salvezza, amore e dignità di uomo come figli di Dio. Grazie a tutti per aver guardato il suo messaggio di Dio.